Non solo una conferenza, ma un festival della tecnologia, con tanto di ruota panoramica, e The Next Web, o TNW, che per la prima volta si svolge a Valencia, città che è entrata di diritto tra le preferite delle start-up. Questo raduno che ha dato la spinta allo sviluppo imprenditoriale legato alla tecnologia su Amsterdam è un evento nel quale si provano ad individuare, ad anticipare quali saranno i prossimi trend legati al mondo dell'innovazione. E su uno, gli organizzatori ci credono, è quello della città di Valencia, dove l'evento arriva dopo tre anni di contatti. E proprio qui il TNW ritrova le sue atmosfere delle origini. Per la prima volta siamo a Valencia con 3.000 persone, un nuovo tech hub europeo, mediterraneo. È un giorno bellissimo qui e vediamo centinaia di investitori e di founders che stanno facendo business per sviluppare l'ecosistema dell'innovazione e della tecnologia europea. Lo che abbiamo visto qui in Valencia ha un ecosistema di circa 1.100 start-ups. È pronto e ha il momento di crescere e di andare a questo livello. Quindi abbiamo portato 130 diversi investitori a Valencia. La parte di loro non hanno mai avuto a Valencia e alcuni non hanno mai avuto a Spanio per risorse di business. E il fatto che The Next Web è qui in Valencia è un grande esempio di questa innovazione che è arrivata a la città. E ovviamente siamo investiti qui nella città di Valencia in green tech e anche in sostenibilità. Lo che facciamo è cercare di aumentare l'entrepreneurismo e cercare di avere più compagni nella regione Valencia e Spanica. Intelligenza artificiale, mobilità e sostenibilità nella tecnologia sono alcuni dei topic, degli argomenti che sono stati affrontati nella due giorni del The Next Web. Inoltre penso che il prossimo investimento in tech sarà la sostenibilità e l'impacto, perché l'economia per l'ultimo 10 anni sta succedendo con il mondo dell'impacto. È importante investire in queste tecnologie di sviluppo come Hyperloop che rivoluzionare la forma che le vengono in nostra società, conoscendo le città in una forma più veloce e sostenibile. For sure, we have to take a look at artificial intelligence, super important, I think, also for other sectors, such as food tech, travel. AI being on the rise, I really hope, and this is what I see here at The Next Web as well, that it's actually gonna really foster and foster humanity. So, yeah, something that is enabling us also as humans. Damiano Crognali, SkyTG24, Valencia. Grazie. 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 Grazie.